La magia vera, quella veramente straordinaria, è che questo cagnino qui abbaia, però abbaia una sola volta dopo che è stato fatto, quando i genitori e i bambini dormono, quindi spesso non si sente mai, però in via del tutto eccezionale voglio farmi sentire l'arbaglio ora, anche perché quando sto girando è notte, è proprio la notte di una piena, quindi basta solo aspettare tutta la notte, questo video che durerà 7 ore e prima o poi abbaierà, io mi metto un attimo comodo, facciamo più veloce, proviamo a prendere questa, che la utilizziamo come cuccia, si mette il cagnolino dentro la sua cuccia, in questo modo qui, e si prova a dondolare, adesso basta scherzare, e al 3 il cagnolino abbaierà, il cagnolino che abbaia 1, 2, 3, uuuuuh, uuuuh, uuuuuh, guarda la magia del cagnolino che abbaia, avete visto come mostro le labbra? chiedo venia aspetta se riprova allora si mette il cangino qui e si rifà il cangino che avvaia 1, 2, 3 u, u u, u, u immagino no? cioè ragazzi però non l'avete visto cioè non me ne passate una cioè prima che hai le labbra che le avevo mossi ma ora non potete aver visto cioè no ragazzi siete troppo severi aspetta proviamo a fare l'ultima volta dai 1, 2, 3 u, 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 u va bene dai aspetta eh allora provate voi un bel soffio magico 1, 2, 3 salta volente mondo birbone ma paghiato davvero aspetta eh riprovate un attimo 1, 2, 3 ok io ve lo lascio proprio con tutto un cuore e spero proprio che vi ricordi di questo splendido incontro che abbiamo avuto insieme e mi raccomando se per quando tornate a casa quando siete stati dimessi vi dicono se se per 5 euro e i vostri amici dicono per 5 euro me lo dai il cagnolino magico guai a voi se dite di sì e se vi dicono me lo dai per 10 euro il cagnolino magico no per niente al mondo assolutamente no no per 10 euro proprio no se vi offrissero 20 allora magari fatemelo sapere che ci si che ci si ragiona su insieme però 10 no 5 euro no 20 euro ci si ragiona insieme 5 no 10 no 20 ci si ragiona sopra i 20 non ci si ragiona neanche sì però la magia è la magia non ha il prezzo sopra i 20 sì sì decisamente